Hello Leute, un willkommen zu Google by Football Manager Trans20 mit dem Beileverkusen In questo episodio vedremo le partite molto importanti contro Magonza, contro Hank e contro Wolfsburg L'episodio come vi ho detto è già molto importante perché contro il Mainz potremo avere un boost ulteriore per rimanere agganciate alla zona Champions perché comunque il Mainz è sesto tipo, comunque è un boost per l'Europa contro Hank è ritorno quindi potremmo qualificarci per i quarti finali di Europa League e contro il Wolfsburg è uno sconto diretto quindi o potremmo raggiungerli o potremmo comunque dimezzare il divario quando insomma dovesse fare risultato il Wolfsburg e noi dovessimo perdere contro il Magonza comunque ecco, comunque vi do il mio bentonato e il mio bentonato sul canale se siete già mai iscritti bentonati alla casa del calcio dove non esiste né quello di maglia né di bandiera e dove lo caffè dei calcisti è quella verso il calcio stesso vi ricordo di supportare i miei progetti podcast, volti nuovi, storie di calcio che potete trovare su Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcast e Apple Podcast e seguitemi su TikTok perché vi butto delle news delle pillole di calcio magari di argomenti che non reputo degni di un video un pochino più approfondito una novità, Capsoba mi ha accettato il rinnovo contrattuale ha un milioncino in più rispetto ai 2.8 lordi che prende adesso l'unica cosa, non sono riuscito a togliere la clausola di 39 milioni di euro per determinati club quindi ragazzi rincasseremo eventualmente 39 milioni di euro cioè non so che dire, però insomma intanto l'abbiamo rinnovato stiamo rinnovando e quindi poi vedremo la scadenza che ad ora è nel 2026 e dovrebbe scadere nel 2028 più o meno, a memoria comunque la formazione che scenderebbe in campo contro il Magonza sarà Fruchtel, Henrik, Stapsoba, Kivior, Bakker Palacios, Gurnaduat, voglio provare questa configurazione Diaby, Virz, Van de Becken disponibile per 2-3 giorni Losek e Colombo, voglio rimettere il titolare perché giustamente ha tirato molto la baracca quindi ora vediamo la formazione del Magonza che sarà la seguente Naumov, Widmer, Bell, Huck, Kaci, Stack, Kor, Nebel, Jaisung, Skeldrup, il mio amore e Burkhardt, Aeniks ma brutta rimessa possesso Magonza Kaci Kaci per Kor Kor per Lee pressiamo ragazzi, andiamo su Skeldrup nooo, per Burkhardt nooo, bravo Tapsoba e Fruchtel, guanta al pallone punizione per noi e recupero del primo tempo Virz sul pallone in porta palla fuori è un primo tempo veramente brutto non abbiamo tirato mai in porta quindi vado in primis in uno spogliatoio stringo i pugni e niente che ne posso dire siamo stati migliori di loro però poi vado anche in tattiche e voglio togliere Colombo voglio togliere Colombo perché evidentemente mi collega poco i reparti quindi metto Simeone Gurna Duat Ammonito io lo tolgo metto Emirby perché non voglio trovarmi in 10 nel secondo tempo Andy Stanford Subs e io sai che vi dico? sapete che vi dico? io vado in cambio modulo io vado così con un bel 4-4 ignorante e tolgo Virz e metto Lozek al suo posto cambio posizione in campo e metto Poligno al posto di Virz appunto voglio un po' più sprint e voglio anche ovviamente Lozek lo metto punta completa come lui e voglio insomma giocarmi in questo modo semplicemente perché questo è da vincere e facciamo l'ultima istituzione ragazzi qui una partita morta 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 e allora io sapete che faccio metto anche così metto centrocampista offensivo Demirby anche se Lozek sta morendo metto Romero troviamo così e vediamo qualcuno deve essere ancora sostituito Palacios chi metto Palacios no però è troppo importante lì tolgo Hendrix e metto flimpong e così fine fine partita hack hack per Caci pressiamo ragazzi bravo di Abì bravo di Abì per Romero Romero allarga bene per Bacquer bravo Bacquer sì ragazzi non è fuorigioco please io ho avuto la sensazione che fosse fuorigioco speriamo che non lo sia ragazzi perché un gol adesso potrebbe essere molto importante e non è fuorigioco e via e siamo 1-0 l'ottantunesimo e come direbbe il nostro amato Allegri dal quale da Vormilito sembra ispirarsi molto Fiu tiri 9 contro 4 in porta 3 contro 2 un XG il doppio possesso palla a favore nostro e passaggio idem partita sporca ma l'abbiamo portata a casa braccia distese ben fatto e avanti così vediamo un po' la classifica vedete perché è importante perché comunque abbiamo in primis allungato sul sul Magonza quindi siamo a più 10 e se non erro abbiamo anche allungato sul Francoforte ora a memoria non mi ricordo forse eravamo già a più 6 forse e la prossima anzi l'ultima dell'episodio contro il Wolfsburg se vinciamo potremmo raggiungerli inoltre Illipsia sta perdendo punti Illipsia sta perdendo punti e ragazzi tutto corto in alto siamo a meno 6 al primo posto è appunto per questo ragazzi supportate la serie perché abbiamo bisogno di voi ho bisogno di voi e contro il Hank per ritorno valevole per gli ottavi finali di Europa League scenderemo in campo con Fructo Lenin Sto facendo pochi cambi ma semplicemente per un motivo perché siamo arrivati a un punto della stagione dove non ci possiamo più permettere di cambiare 10 undicesimi ogni partita quindi giochiamo con questi qui e poi ogni tanto facciamo qualche cambio quindi questa è la cosa importante che bisogna ricordare non possiamo più cambiare veramente ogni uomo in ogni partita dobbiamo stringere un po' dobbiamo serrare i ranghi comunque Vandervo Mugno Sadik McKenzie Arteaga Questa Hayen Tresor Casto Panzi è la formazione del Hank e ragazzi questa dobbiamo gestire con intelligenza ma sono positivo di animo io vedo Diaby troppo giù di condizione vuole stare in campo Diaby Diaby no Diaby mi dispiace io ti tolgo ma per il semplice motivo che non posso fare meglio di te Aude 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 per Paoligno Paoligno per Incapié Gurnaduat per Palacios bel passaggio in profondità per Simeone errore di Sadik e Simeone non sbaglia Simeone castiga il Hank ottavo gol della stagione quindi l'investimento Simeone è stato ottimale fino ad ora e queste sono le statistiche del primo tempo quindi andiamo avanti così perché ripeto sono positivo Aude per Incapié Incapié per Palacios Palacios tenta di Minsucastro il quale però gli frega il pallone Hayen per McKenzie Sadik ragazzi possibilmente facciamo il secondo perché potrebbe essere cosa buona e giusta non voglio ancora in problemi questa per McKenzie Hayen ancora per il difensore l'azione si sviluppa a sinistra con Arteaga Palunga per Onuaciu mamma mia dovrà sparare Onuaciu and it's time for subs in qualche istituzione la farei infatti allora io toglierei Palacios metterei Demir Bay Lozek me lo preserverei e vado a mettere Adli e poi anche Van de Beek vado a togliere perché insomma vedono infortunio e metto Kiergård proviamolo in questa posizione Kiergård anche perché il danese deve riprendere un pochino di gerarchie Gurnaduat e metto Kivior come incontrista poi c'è per noi Demir Bay in mezzo per Incapié e Incapié in sacca seconda della stagione per Incapié e segna nel momento più propizio nel senso che ci dà ulteriore conferma che passeremo il turno allora io qui vado anche ad abbassare il ritmo di gioco passaggi corti non voglio che ci stanchiamo assolutamente poi tenere la posizione e ritornate ecco un po' più Calmini Arteaga per Elkanus Elkanus ancora bravo Kiergård che prende la palla su Arteaga bel duello duello rusticano Castro ancora in possesso palla si inculina in area tiro uh errore di Fructel ma a noi di questo erroraccio non ce ne frega niente perché vinciamo per 2 a 1 statistiche superiori le nostre e niente e niente siamo passati i quarti quindi semifinale di Dev Bepokal poi quarti finale in Europa League quarti in campionato ad ora possiamo dire che è una stagione molto 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 positiva una settimana senza Diaby bene quindi contro il Bayern contro il Wolfsburg non giocherà Diaby 1.2 milioni di euro in saccoccia e quindi ripeto stagione fino ad ora molto positiva siamo in corsa ovviamente quasi per 3 competizioni dato che poi ci mancano ancora due settimane la partita contro il Wolfsburg nel frattempo però ci sono i sorteggi di Europa League quindi andiamo a vederli con voi e subito si inizia con noi l'Arsenal cioè c'è il Rennes c'è il Bilbao c'è lo Shakhtar noi l'Arsenal bene inoltre vediamo anche quello appunto per il turno successivo quindi vediamo gli accoppiamenti Arsenal Bayern contro Ajax Rennes quindi se dovessimo vincere passare il turno contro l'Arsenal la semifinale la potremmo giocare contro Ajax o Rennes beh non male ecco voi gli unici che scenderanno in campo contro il Wolfsburg vuol dire Flutter Einerich Stapsoba Kivior Aude Divir by Palacios Diaby Van de Beek Lozek e Simeone perché avete Aude e non Bakker perché Aude in coppa sarà squalificato contando che la prossima partita contro l'Arsenal allora Bakker me lo voglio tenere un pochino fresco ma questo è da considerarsi come un big match quindi dobbiamo partire a sua mente con i titolari ora però vediamo la formazione del Wolfsburg che sarà Castels Baku Lacroix Borneau Vegas Morlanes Vanberg Gerhard Mecha Solomon e Hoylund Solomon in mezzo uuuuh che rischio Baku per Morlanes Lacroix stiamo giocando male stiamo giocando male creando pochissimo vediamo adesso Eriks bravo dietro per Fructel Tapsoba ancora Fructel Kivior per Demir Bay ancora Kivior non commettiamo errori giochiamo di testa Eriks bello lungo per Diaby Diaby scatta bella parte di Castels punizione per noi Demir Bay Tapsoba palla alta e primo tempo molto 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 deludente molto deludente devo dire stringi pugni mani sui fianchi non abbiamo giocato all'altezza vediamo un pochino qui eh chi è che sta giocando malino eh Palacios vi vado a mettere Gurnaduat bella diga difensiva in attacco un po' tutti un po' tutti però per ora andiamo così e in time for subs male male allora metto Colombo e io cambio ovviamente la parte offensiva metto al posto Polini al posto di Lose con messo Virz al posto di Vandebeck e per ora andiamo così Vegas Tapsoba bravo Anerix no non rischiamo così non rischiamo così non rischiamo così ragazzi bravo Anerix in 3 contro 1 ehm ok Anerix ancora Demir Bay Tapsoba bella para per D-A-B dai no bravo Virz bravo Virz bravo Virz bravo Virz Paoligno Paoligno e Paoligno Paoligno al 74esimo siamo in vantaggio siamo in vantaggio contro il Wolfsburg rete importantissima la sblocchiamo quasi in ultimo quarto d'ora e staremo a vedere angolo loro Solomon in mezzo bravo Fruchtel bravo Fruchtel che abbranca il pallone ora cosa faremo partiremo lunghi o andremo nella costruzione bassa palla lunga para per Castles che fa il libero probabilmente Solomon ancora in possesso noi Aude ma no questi passaggi Svamber ma Tapsoba chiude subito bravo Gornaduat che lavora col corpo D-A-B Anerix Anerix bella palla lunga per D-A-B facciamo un secondo ragazzuoli facciamo un secondo Virz e Virz la butta dentro seconda azione in contropiede intanto la mia voce sta andando via siamo 2-0 83esimo Sam Sabs Sam Sabs togliamo D-A-B facciamo riposare e mettiamo dentro Kiergård e basta perché abbiamo già fatto tutto praticamente D-A-B D-A-B sulla fascia in mezzo per Colombo ma Palimana-Gastels Tapsoba per Kivior siamo al 91esimo appena scoccato Burnow ma Colombo li frega il pallone utente al tiro Virz ma rispinto alla Croix bravo bravo Kiergård ma Demirbay sprega tutto punizione per noi Demirbay in mezzo in mezzo spinge la difesa avversaria Kivior ancora per Tapsoba in posizione molto inedita Kivior per Gornaduat Aude bravo per Tapsoba come ha la sinistra Gornaduat attenta al tiro ma palla ancora Castels che riparte subito la Croix per Wimmer bravo Kivior bravo Kivior Serie a Mirangi Serie a Mirangi vabbè che manca ancora un minuto probabilmente quindi possiamo già dire che vinciamo la partita contro il Wolfsburg salvo ecco Aude bravo rigore rigore concesso e per una partita perfetta ora Fruchtel lo deve andare a parare Valchmidt contro Fruchtel uh lo scavetto gli ha fatto Fruchtel uccellato che bastardone Valchmidt Valchmidt fatti tanto il fenomeno tanto la vinciamo noi statistiche in favore nostro Tannix Gym ma siamo stati molto più concreti il possesso un po' minore il nostro però ripeto siamo stati più concreti e abbiamo sfruttato i contropiedi quindi braccia distese ben fatto ragazzi ben fatto assolutamente e se vediamo la classifica abbiamo raggiunto il Wolfsburg e stiamo in vantaggio per la differenza reti suppongo o non so magari si cedano anche gli sconti diretti ma attenzione perché siamo a meno 4 dal Bayern il Lipsi aveva un vantaggio sia sui pedale che l'ha dissipato tutto evidentemente incappato in un periodo negativo il Bayern è primo a 60 punti ma noi siamo a 56 e guardate tra il quarto e il primo posto quanti punti passano 4 quindi tutti i giochi sono aperti ora quindi dobbiamo andare a vedere le partite del prossimo episodio che saranno come vi ho già anticipato contro l'Arsenal contro Stoccarda e contro l'Arsenal ancora quindi prossimo episodio vedremo se saremo in semifinale di Europa League hopefully yes speriamo vediamo e poi scontri detto con uno Stoccarda in difficoltà quindi insomma staremo a vedere ovviamente qui sotto i commenti scrivetemi le vostre impressioni filmando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti